Per chi c'è il raffreddamento? E' un raffreddamento che fermano qualche modo che si trova via e tenendo la strumento che fermano qualche modo per la manuacra Per chi le aspettano un po' la nostra meglio perché se no quelli che firmano loro ecco bene questo giusto questo qua è proprio come già in diretta